L'amicizia è un legame speciale che si sviluppa nel corso del tempo e attraversa diverse fasi. Ogni fase è importante per stabilire una relazione solida e duratura. Ecco le diverse fasi dell'amicizia. Uno primo contatto, questa è la fase iniziale dell'amicizia, in cui due persone si incontrano per la prima volta. Potrebbe essere attraverso un interesse comune, un incontro casuale o una presentazione da parte di un amico comune. Durante questa fase, le persone si conoscono superficialmente e cercano di capire se sono interessate a stabilire una connessione, più profonda. Due, condivisione di interessi, una volta che le persone si sono conosciute, possono scoprire di avere interessi comuni. Questa fase coinvolge la condivisione di hobby, attività o passioni che le persone apprezzano entrambe. Questo aiuta a stabilire un terreno comune e crea una base per costruire una relazione più solida. Tre, condivisione di esperienze. Durante questa fase, le persone iniziano a condividere esperienze personali e a sviluppare una maggiore intimità. Potrebbero raccontarsi delle proprie vite, delle esperienze passate o delle sfide affrontate. Questo aiuta a creare un senso di fiducia reciproca e comprensione. Quattro, supporto reciproco. A questo punto, l'amicizia si sviluppa ulteriormente attraverso il supporto reciproco. Le persone si sostengono a vicenda nelle loro sfide, problemi o momenti difficili. Sono presenti l'una per l'altra e offrono conforto, incoraggiamento e consigli quando necessario. Cinque, intimità emotiva. Questa fase coinvolge la condivisione di emozioni profonde e personali. Le persone si sentono a proprio agio a mostrare le loro vulnerabilità e a confidarsi l'una con l'altra. Questo rafforza il legame e crea una connessione emotiva profonda. Sei fiducia. La fase finale dell'amicizia è la fiducia. A questo punto, le persone si fidano l'una dell'altra completamente e si sentono sicure nella relazione. Sanno di poter contare sull'altro e si sentono a proprio agio a essere se stesse senza riserve. È importante notare che il tempo necessario per attraversare queste fasi può variare da amicizia a amicizia. Alcune persone potrebbero raggiungere la fiducia in tempi relativamente brevi, mentre per altre potrebbe essere necessario più tempo. Ciò dipende dalle personalità coinvolte e dalle esperienze condivise.